Tararataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratara Buonasera a tutti, sono Ginetto Micidial E è successa una cosa incredibile Praticamente, c'è tanta gente davanti al cinema che pensa che è oggi uscita l'Italiano Medio Invece no E io li sono venuti a salvare a dire non entriamo al cinema oggi Andiamoli a salvare Eh scusi, guardi che non è oggi l'Italiano Medio eh il 29 gennaio Mi fa piacere, non ero qua per quello Ah, non era... Mi scusi Guardate che non è oggi Italiano Medio, esce il 29 gennaio, vedi già ride, è un buon segno, venga venga, guardi che ha sbagliato giorno, non è oggi Italiano Medio, non so cosa rispondere, bravo, allora vai via perché sennò ti rubano i soldi e torna il 29, ha visto Italiano Medio? Scusi scusi, guarda che non è oggi, non è oggi, è il 29 gennaio Italiano Medio, che hobby hai? Il calcio, però venga anche il 29 gennaio, si ci sono, perché, in che senso? Ah, pensavo no, facciamoci una, è il 29 gennaio, bravissimo, no ma entri, allora, ragazzi, meno male che sono venuto perché ho salvato un sacco di gente che stava entrando a vedere Italiano Medio, ma invece non è oggi Italiano Medio, e tantissime persone mi hanno ringraziato, mi hanno detto, grazie Ginetto che ci hai, ci hai fatto risparmiare 7 euro, super Ginetto!